Francesco benvenuto al su tiro, sei contento? Molto contento. Chi è Francesco Di Tacchio fuori e dentro il campo? Francesco Di Tacchio fuori dal campo è un ragazzo tranquillo riservato e dentro il campo sicuramente posso contribuire con la mia esperienza aiutando i giovani e portare le mie qualità all'interno del gruppo. Quali consideri i tuoi punti forti? Sono un calciatore che comunque fa della forza fisica la qualità principale, è normale poi in base alle indicazioni dell'allenatore cercherò di mettere a disposizione tutte le altre caratteristiche. Tu in Serie Bici sei arrivato molto presto, molto giovane. Cosa c'è stato prima e cosa c'è stato dopo? Oggi dico che il tempo è volato, però sono ancora in tempo per poter togliermi delle soddisfazioni. In Serie B ho esordito quando ero 18 anni e penso di aver fatto finora una buona carriera e cercherò di continuare a scrivere ancora pagine importanti. C'è stato anche un po' ad azzurro? Sì, quando ero più giovane ho fatto le trafille nazionali, per cui è stata una bella emozione poter vestire la maglia azzurra. Qual è stato il momento della tua carriera più bello? Quello che ricordi, magari anche al di là di un risultato molto crudo che ricordi con più piacere. Sicuramente la promozione in Serie A con la Salernitana, perché comunque era una piazza che la desideravo, l'aspettavo da tanto e insieme nel compagno abbiamo fatto qualcosa di importante e penso che rimarrà nel tempo. Lo hai fatto con i gradi di capitano tra l'altro, quindi con grande responsabilità. Sì, è una grande responsabilità, merito anche dei miei compagni, perché quotidianamente lavorando duramente abbiamo raggiunto questo traguardo. E in Serie A che ti sta? La Salernitana è bella, è un bel palcoscenico. Io ho avuto il piacere di esserci arrivato diciamo, vincendo un campionato. Però è una bella emozione. Che ambiente hai trovato qui al sud, Tirol? Un ambiente molto familiare, un gruppo di ragazzi per bene, di grandi lavoratori. C'è tutto per poter far bene. Hai già detto prima quali sono le tue caratteristiche e il tuo approccio. Ti senti di fare una piccola promessa? Ma la promessa che posso fare è quella di dedicare tutto a me stesso, perché comunque sono uno che ama questo sport, questo lavoro. E cercherò di onorare tutti i giorni questa maniera. Ti hanno detto che il Diuso è uno stadio piccolo ma tanto bello. Sì, ho avuto il piacere, la fortuna di giocarci lo scorso anno. Ho trovato un ambiente molto caldo, nonostante sia molto piccolo, però i tifosi si fanno sentire. Per cui quest'anno li aspettiamo numerosi per poterci dare una mano.